Noi arriviamo carichi, nonostante abbiamo passato una gara 4 un pochino complicata, nel senso che speravamo di fare meglio in casa, poi la Milano che stiamo affrontando oggi è una squadra costruita per fare l'Eurolega e per farla da protagonista. È ovvio che quando hai di fronte giocatori che ti iniziano a marcare in maniera molto stressa dal tunnel di uscita è normale che trovi più fatica a fare un piano di gioco che risponda ai nostri criteri. Noi facciamo dell'attacco, la nostra punta di forza, è ovvio che nel momento in cui ti marcano in maniera molto stretta fatichi un po' di più. Io ho un ottimo rapporto con la classe arbitrale a livello individuale e anche col disegnatore o comunque col supervisore. Gara 4 è stata per noi uno tsunami perché gli errori li facciamo tutti, li facciamo noi dirigenti, li fanno i giocatori in campo, li fanno in tanti. Quello che però un po' ci ha lasciato perplessi. Perplessi. Sì, diciamo perplessi. È fatta a salva l'eventuale spontaneità e buona fede di tutti gli arbitri che, ripeto, ottimo rapporti con tutti, reputo tutti i grandi professionisti. C'è la Cerebuc oltretutto, è uno dei più esperti. Assolutamente, assolutamente. Però è anche vero che abbiamo subito un metro di misura differente, ma forse perché in maniera più spontanea te lo aspetti da Milano un certo tipo di gioco anche in termini di approccio e non te lo aspetti magari da altre squadre. Quindi sei più portato a sanzionare quello dell'altra squadra rispetto a quello di Milano. Potrebbe essere in caso di sconfitta di Sassari l'ultima partita di Trevis Diner? Ma non lo so, nel senso che sicuramente Trevis sta pensando al suo futuro in maniera più ampia rispetto a come faceva fino a ieri come giocatore. È un ragazzo che ha 33 anni, ne ha passato 28 sui campi di basket, ha appena avuto la seconda figlia. Fisicamente è uno che per poter competere in NBA ha dovuto fare grandi sacrifici. Ci sta che dopo una stagione così lunga, ieri abbiamo fatto i conti, abbiamo preso il 71esimo aereo della stagione, abbiamo giocato tipo 60 partite, quindi insomma aggiungiamo che in mezzo c'è stata la nazionale che per lui è stata molto importante nel senso di pesi mentali perché gli ha impedito di poter fare rifiattare durante l'estate. Quindi ci sta che oggi faccia un po' di riflessioni da uomo maturo e non più solo da giocatore. La nostra speranza è che resti con noi ma dovesse succedere che decidete di smettere di andare a Chicago, quindi tornare a casa sarà sempre un riferimento per noi.